Pres, l'ultimo presidente che aveva vinto un derby con il Perugia era Piero Mancini nel 2008 addirittura, insomma una vittoria questa al di là del campanile ma anche statisticamente non banale. Ma io non farò mai in vita mia paragoni con nessuno, noi siamo qui adesso e cerchiamo di fare del nostro meglio, con tanti pregi e tanti difetti, quindi quando ho finito di essere presidente dell'Arezzo mi diranno se ho fatto bene o fatto male. Ad oggi me la godo perché francamente me la godo bene, sereno e tranquillo e poi da venerdì prossimo, da sabato prossimo cercheremo di andare a fare la nostra bella figura anche a Sestri. Ma come è stata stasera, come l'ha vissuta anche da un punto di vista proprio delle emozioni? È dura, sono tre giorni che ha presa la squadra, tre giorni che non si dorme quindi io le vivo così ma non le vivo solo questa, le vivo quasi tutte le partite con molta enfasi però questo è particolare perché si sentiva nell'aria che il derby è fondamentale. E poi ricordo i primi giorni che sono venuti qua, se non ricordo male o tu o un altro giornalista la prima cosa mi hai detto se ricordi il Perugia, quindi fa capire che dopo quasi quattro anni siamo riusciti a portare a casa il risultato del Perugia. Le ha viste tutte le partite di quest'anno, è la miglior prestazione della squadra secondo lei quella di stasera? No, assolutamente no, quasi tutte in linea tranne un paio di partite in cui non eravamo estremamente concentrati, ricordo la partita con la spalla che per noi è stata importante e anche il secondo tempo di domenica scorsa, insomma la squadra c'è, va solo a metà aiutata a fare sempre del suo meglio. Va aiutata anche sul mercato Presidente, visto che tra poco cominceremo a martellarvi anche su questo? Quello ci pensano i direttori, stanno lì apposta, sanno loro quello che dovranno fare, io gli ho dato carta bianca a Paolo Ennello e sapranno dove intervenire, quindi come si avvita il mercato cominceranno a capire dove e dove c'è bisogno di farlo.